Ovviamente non è questa la canzone, questo è un omaggio, uno scherzo di Albano per la gente qui convenuta e per un omaggio al Papa per questa serata. Il mondo siamo noi è il titolo di questa canzone di Albano Romina, una canzone profonda, una canzone nella quale si cerca di lanciare un messaggio. Dice il ritornello, in questo mare mosso di bugie sono tante le bugie, tante che affogano le idee. E dove si andrà? Grazie! Grazie! Ecco, Albano sta correndo sul palco per salutare, per abbracciare il Papa, ha anticipato anche la moglie che più lentamente lo ha seguito. Senti che pagano il mio pranto non ne ho, sulle banchine in piazza grande, ma quando ho fame di mercanti come me, sai qui com'è.